La disciplina è molto diversa, dall'economia aziendale alla sociologia urbana, ma non c'è mai nessuno che riesca a mettersi d'accordo. Perché la quantità di valore aggiunto in materiale, in realtà a seconda del tipo di parametri che prende in considerazione, è completamente diverso. Nel libro di Adam c'è questo esempio che faccio sempre, anche se non mi ricordo mai bene i numeri, che è quello del valore di Apple secondo i vari istituti di misurazione del valore aggiunto del brand. Dovrebbe essere, se non ricordo male, 220 miliardi di dollari secondo Interbrand. Ok, 150 per Interbrand, che è il primo istituto il ranking e 50 per quello che avviene dopo che è Brand Z. Nel mezzo ci stanno 100 miliardi di dollari, che sono veramente tanti soldi. Il problema vero è che in realtà, siccome sono sistemi complessi, arrivare poi alla misurazione definitiva è spesso quasi impossibile e in realtà di solito io tendo a diffidare parecchio di tutti quelli che danno dati certi su quanto poi vale ad esempio un determinato evento di produzione artistica, culturale e creativa all'interno di un contesto urbano. Ad esempio tutti gli studi che ci sono sulla scala Milano tipicamente, cioè quanto la scala Milano porta alla città. Ci sono tutti questi numeri che sono venuti fuori negli ultimi due anni, soprattutto c'è stato un grosso percorso di divulgazione pubblica su ogni euro che viene speso per la cultura, ne restituisce 5, ne restituisce 8, ne restituisce 7, 10. In realtà non si sa e questo chiunque poi un po' onesto che ci lavora sopra alla fine è un po' costretto a dirlo, nel senso della mitodologia, ma ancora prima l'epistemologia che sta dietro la ricerca di questo tipo è sempre estremamente complicata perché il fenomeno è complesso. Per quello che riguarda i pubblici, secondo me una cosa divertente, ci stavo pensando prima mentre venivo qua, è che in qualche modo il pubblico è diventato un tema super mainstream, cioè è un tema di cui si parla abbondantemente sia nel dibattito diciamo di massa, quindi è una cosa di cui ormai si cerca di trovare delle misure, delle definizioni anche sui quotidiani, al giornale, proprio perché è chiaro ormai che il ruolo che il pubblico ha assunto all'interno dei nostri sistemi di produzione sociale e economica è diventato, sono diventati cruciali. Ma soprattutto secondo me è una cosa interessante che è stancita dall'ultimo giro di bandi della comunità europea per la cultura e la creatività e che Horizon, tanto per fare l'esempio più conosciuto, è che l'indagine del pubblico e gli strumenti di sviluppo del pubblico come viene definita, sono alla base sostanzialmente di tutta la progettualità. Questo vuol dire che siamo di fronte a un percorso di almeno 5-7 anni, ma probabilmente di più, nel quale la natura del pubblico, la misurazione del pubblico e soprattutto la costruzione e l'indagine del pubblico saranno al centro di tutta la produzione culturale creativa a livelli più disparati, dal piccolo circolo arci di quartiere fino ai grandi progetti che coinvolgono istituti museali e grandi università. E questa sicuramente è una cosa interessante perché secondo me ha senso prendere atto del fatto che in qualche modo uno dei dispositivi principali di produzione di valore da un lato e dall'altro anche di senso sociale, quindi proprio del perché ci riconosciamo come persone che stanno facendo qualcosa che in qualche modo ha qualche punto in comune, viene messo sul piatto e viene indagato e soprattutto diventerà uno degli asset produttivi principali nel mondo della cultura e dell'attività. E questo secondo me si porta dietro un po' di riflessioni interessanti. Da un lato secondo me ci dice che in qualche modo, come ha scritto una volta Marco Liberatore in un articolo trovato molto interessante, in qualche modo forse ci dice che i marossi di Bauman sono finiti, cioè Bauman con questa idea della società liquida, dell'estrema individualizzazione, della fine in qualche modo preconizzata, della solidarietà sociale intesa in senso classico, è quello che ha sognato tutta la fine degli anni 90 all'inizio degli anni 2000. L'unica aspettativa che avevamo davanti era quella di essere monadi, sole, che ogni tanto entravano in contatto con delle altre monadi, si scambiavano qualcosa, una parte di esperienze sociali, si scambiavano fluidi anche molto nell'idea dell'amore liquido di Bauman e poi dopo però restavamo comunque inevitabilmente sempre soli. Tutta questa attenzione sui pubblici probabilmente ci dice che stiamo andando in un'altra direzione, cioè che c'è una nuova voglia di coesione sociale, perché chiaramente il fatto che si stia affermando un discorso a livello sia pubblico ma anche di governance intorno ai pubblici ci dice proprio questo, c'è una nuova voglia di persone che si incontrano, uno, che si riconoscono in qualcosa, poi su cosa si riconoscono ci sarebbe molto a discutere, che però in qualche modo stabiliscono nuove forme, nuovi ordini, dei legami affettivi, dei legami di coesione sociale tra di loro. E questo è, mi sento molto ottimisticamente di darlo come un dato comunque molto positivo. Perché appunto riguardando, io mi ricordo quando ero, all'inizio degli anni 2000, mi sono letto il primo libro di Bauman, ci ho avuto un senso di depressione profonda che mi ha accompagnato per una settimana, ho detto vabbè ok, non c'è scampo, moriremo tutti, siamo destinati alla società degli automi. Adesso la sensazione è decisamente un'altra, cioè tutta questa attenzione continua a tutti i livelli appunto, sia nei movimenti anticapitalisti o comunque di critica al capitalismo, sia all'interno dei sistemi di produzione capitalista, però c'è proprio un'ondata molto chiara di ricerca di qualcos'altro. Quindi di voglia di riconoscersi e anche molto di essere produttivi, che poi è un po' il termine, infatti che speravo l'aggancio su quello, poi non l'hai detto ma poi è sostanzialmente poi la base del tuo lavoro. Quindi l'idea del pubblico produttivo, un pubblico, quindi diciamo dei gruppi più o meno stessi di persone che si riconoscono non tanto non necessariamente in degli assetti valoriali, intesi in senso stretto, perché questa è un po' la società premoderna, in qualche modo il valore stretto, i valori intesi come valori sociali sono quelli in cui ci si riconosce, ma più che altro in una serie di pratiche produttive e riproduttive di senso sociale. E questo vale per tutto da quelli che stanno all'angolo del mio ufficio, che c'è nel negozio dell'Harley Davidson e sono chiaramente manager milanesi che si spendono lo stipendio in giubbini, arancioni e in moto di grossa cilindrata. Lo vediamo su Twitter, lo vediamo tantissimo nei pubblici produttivi della creatività e del design che hanno una frenesia sostanzialmente di riconoscersi in una serie di pratiche. E lo vediamo anche, cosa molto interessante, negli uprise, nelle proteste degli ultimi anni. Le proteste degli ultimi anni hanno questa caratteristica occupai, gli indignados, eccetera, di in qualche modo aggregarsi con una velocità e senza una pre-progettualità, nonostante ci siano stati poi degli attori che portavano avanti la protesta, che però è completamente inedita, perché se dobbiamo dire qualcosa di veramente nuovo che c'è stato nelle proteste degli ultimi anni è stato proprio questo, la capacità di aggregarsi anche, e non solo, come viene detto di solito, però attraverso l'uso dei media sociali in modo molto molto veloce, al di là spesso dei valori, intesi nel senso più tradizionale, ma proprio attraverso le pratiche e le forme di protesta, che infatti negli ultimi anni stanno trovando proprio un senso nuovo, nel senso che nei movimenti sociali tradizionali le pratiche e le forme di protesta erano degli strumenti che venivano scelti per portare avanti un discorso, adesso sono molto spesso il centro stesso della pratica di protesta e questo è un cambiamento perché appunto ci sono dei pubblici che producono le pratiche di protesta e proprio nel produrre la pratica di protesta si riconoscono in quanto appartenenti allo stesso percorso, quasi un ribaltamento. Però allo stesso tempo, quindi a parte tutti questi dati che in parte sono positivi, in parte sono critici, ma comunque potenzialmente molto interessanti, c'è un dato fondamentale secondo me legato allo statuto del pubblico in questi anni, che è, e questo lo diceva lui prima, la sua estrema autoreferenzialità. Cioè il pubblico per definizione oggi è autoreferenziale, nel senso che proprio in questo riconoscersi nelle pratiche e nell'escludere inevitabilmente chi non si riconosce in queste pratiche, cosa che dal punto di vista sociale è completamente normale, però tende a perdere gli addentellati con gli altri gruppi sociali, con gli altri pubblici sociali sostanzialmente, con gli altri pubblici produttivi. Questo fa sì che sostanzialmente in qualche modo i pubblici oggi, che sono pubblici temporanei, non si sta parlando di gruppi sociali intesi nell'accezione più tradizionale, non sono gruppi che si definiscono nell'arco di anni e che portano avanti percorsi nell'arco di anni. Sono pubblici che molto spesso sono estemporanei, per certi versi, appunto si ritrovano nell'occasione dei grandi eventi, si ritrovano nell'occasione del consumo culturale, ad esempio di serie televisive, che però dura come riconoscimento l'ambito della stagione, che non è neanche tutto l'anno, semplicemente da quando esce la prima puntata di True Detective a quando esce l'ultima, sono otto puntate, purtroppo sono state brevi, però si consuma nell'arco di questa cosa. Il punto però è che questi punti tendono sempre, questi pubblici tendono sempre a guardarsi l'ombelico, nel senso che producono dei discorsi, li producono attraverso un investimento molto forte in termini emotivi, quindi in termini di affettività e quindi in termini di produzione forse in qualche modo prevaloriale, cioè qualcosa che comunque ha a che fare direttamente con i sentimenti che appunto poi vengono messi a regime in un sistema molto più complesso di quello di cui parlava Dan prima, però in qualche modo si autoesauriscono e si autoesauriscono a tutti i livelli. In qualche modo secondo me questo ci dice, da un lato il perché la maggior parte delle proteste degli ultimi anni, al di là dell'elemento molto ovvio e molto concreto della repressione, però in qualche modo sono delle fiammate che partono e poi in qualche modo si consumano sempre e tendono a lasciare molto poco in altri ambiti sociali. Da questo punto di vista Occupy è veramente impressionante, non so se avete seguito un po' gli sviluppi di Occupy negli anni ma Occupy si è completamente consumata, su cui sono proprio fatte interagionalmente ma non è questo tanto il punto. Però il punto è che il pubblico si preoccupa sempre di più di essere produttivo, quindi di produrre sistemi simbolici che sempre più tra l'altro sono sistemi estetici, per questo anche secondo me questa ricerca è molto interessante, però si preoccupa sempre meno di essere traduttivo in qualche modo, cioè di sviluppare degli strumenti linguistici intesi nel senso più ampio che gli permettano di entrare in contatto con altri pubblici che producono qualcos'altro. E questo in qualche modo, ritornando un po' all'idea di Bauman, in realtà è un superamento dell'individualizzazione estrema della monade che è lanciata sola nel mondo sociale, però non è ancora abbastanza in qualche modo, perché non c'è ancora una consapevolezza da parte dei pubblici che è possibile costruire degli addentellati, costruire dei percorsi che prendano le pratiche di produzione sociale, di produzione estetica, di produzione anche valoriale e li trasferiscano ad altri tipi di pubblici, perché ancora una volta c'è poi il discorso dell'azione collettiva, il grande punto, questi pubblici prevalentemente non sono in grado di portare avanti un discorso d'azione collettiva, ma proprio perché tendono ad essere estremamente autoreferenziali. Questo c'è un altro aggancio secondo me parecchio cruciale, che è proprio quello del valore. Uno dei tanti modi possibili di guardare alla produzione di valore nel mondo contemporaneo è la teoria storica che chiunque abbia abbazzicato in qualche modo anche lontanamente dalla sociologia conosce di Bourdieu sui vari tipi di capitali. Per Bourdieu, teoria prodotta negli anni Sessanta e poi rilaborata in tantissimi modi diversi, sostanzialmente esistono quattro tipi di capitali. C'era il capitale economico che è chiaramente quello più ovvio, quanti soldi ho a disposizione, il capitale culturale che tipo di conoscenze ho a disposizione, formali e o informali, il capitale sociale o relazionale, quindi chi conosco e il capitale simbolico che è in qualche modo possiamo definire come reputazione. Questi quattro tipi di capitali formano il mondo dei valori che abbiamo intorno e in parte sono convertibili l'uno e l'altro. Per cui se ho un alto capitale, questo nel mondo che fu, se ho un alto capitale culturale lo posso in parte convertire in capitale economico, quindi posso estrarre del valore economico soldi sostanzialmente dalle cose che conosco. Se conosco tante persone posso in qualche modo riconvertire questa cosa in reputazione da un lato ma anche in capitale economico dall'altro. Questo in realtà è il problema della convertibilità di questi capitali e il problema dei lavoratori cognitivi contemporanei perché sono lavoratori che hanno grandissimi capitali sociali a disposizione perché oggi per stare sul mercato all'interno delle industrie della cultura e della creatività devi conoscere tantissime persone e la tua vita non è altro che incontrare persone, stringere mani, ricordarti chi sono, cercarli su LinkedIn, eccetera, eccetera, e metterli in relazione tra di loro. La tua reputazione è fondamentale per cui ci sono tutta una serie di strumenti chiave che servono nei mondi digitali per misurare la tua reputazione. Da un lato banalmente quanti amici hai su Facebook o quanti follower hai su Twitter ma anche in un modo un po' più raffinato il tuo ranking di piattaforme come Cloud o Cred che servono a misurare quanto sia importante. Però questa cosa ancora, in un mondo che ha accelerazione esponenziale, non si trasforma in capitale economico e quindi allo stesso tempo non si trasforma sostanzialmente in processi di redistribuzione da un lato del valore ma dall'altro anche del potere. Il punto qual è, secondo me, con questo chiudo, che se i pubblici produttivi vogliono riuscire a mettere sul piatto della critica dell'azione collettiva nuove sfide dal punto del valore e quindi sostanzialmente anche del reddito perché poi tutto gira sempre intorno a quello, devono imparare a tradurre i sistemi di senso che stanno all'interno dei singoli pubblici. Quindi, ok, io so parlare benissimo dei gattini sostanzialmente, posto le foto dei gattini fantastiche, mi prendo tantissimi like su Facebook e quindi ho una reputazione molto alta. Un caso su mille mi fa diventare un blogger che poi dopo lavora magari con i vetrinari e quindi in qualche modo mi porta anche un valore economico, però questo è ancora una cosa completamente episodica e che in realtà non consente nessun tipo di giustizia redistributiva e anzi in realtà spinge l'uguaglianza da questo punto di vista. Il punto è che i pubblici per riuscire a fare questa cosa devono smettere di guardare solo a se stessi ma imparare in qualche modo a tradurre i sistemi di valore che hanno internamente, quindi queste formalizzazioni di diversi tipi di capitale e farli circolare tra pubblici sono anche molto diversi. Questa è una sfida perché tendenzialmente i pubblici diversi si stanno sulle palle, questo poi è il problema fondamentale, nel senso che gli ordini di valore prima ancora che estetico, che stanno dietro a pubblici diversi sono molto spesso incompatibili e questa credo proprio sia la sfida del momento. Con questo chiudo.